Ibra, senegalese di 36 anni, intervenuto in difesa di sua cugina durante una rapina, ricevendo minacce da alcuni passanti. E Karim, anche egli senegalese, 24 anni, ferito prima da due coltellate, poi da un colpo di arma da fuoco, da quattro rapinatori. Due episodi di cronaca che ora lasciano spazio alla riflessione su un tema specifico come quello della violenza contro gli extracomunitari. Ed è stato questo il senso dell'incontro, oggi a Palazzo San Giacomo, tra il sindaco di Napoli ed i protagonisti delle due vicende. Non è la prima volta che siamo saliti qui. Penso che i porti sono aperti per noi. Integrazione, noi cerchiamo di dare possibilità alla nostra comunità di integrare con questa società. Un paio di mesi fa è arrivato qui, io su Lour, che è uno dei ministri senegalese, siamo saliti qui, abbiamo parlato di gemellare comuni di Napoli e comuni di Dakar. Penso che è una cosa molto importante. Per questo è quello che è caduto di ragazzi, può cadere anche un napolitano, un italiano, qualunque persona è caduto. Pertroppo ogni parte del mondo ci trova piccola criminalità. Io molte volte dico questo perché la maggioranza dei napolitani che lavorano a mattina e pomeriggio, che danno una dignità a questo paese, che adesso viene discriminato per piccola criminalità. E questo noi lo sappiamo. Per questo stiamo lottando insieme con il sindaco, con tutti i cittadini, e di lottare per questa criminalità. Io dico grazie a Ibra che ha fatto quel bel gesto. Mi dispiace quello che è caduto dal nostro fratello Ibra, ma con coraggio, con forza, o forse possiamo dire anche di darlo un premio in questo caso, di aiutarlo anche ad avere un benedetto permesso. Oggi volevo dare una testimonianza di vicinanza umana e istituzionale. In nome mio, della Giunta e dell'intera città di Napoli, questi due fratelli senegalesi napoletani che stanno nella nostra città. Uno perché ha pagato sulla propria pelle una violenza inaccettabile che condanniamo e che quindi ci auguriamo possa presto ritornare in piena salute. E poi il gesto importantissimo di soccorrere una turista aggredita, quindi segno che loro si sentono parte integrante della nostra comunità, con diritti e doveri. Cioè tutti insieme dobbiamo lavorare perché Napoli possa essere sempre una città più vivibile e più sicura. È una grande città internazionale, piena di etnie, di razze, di culture, di religioni che vivono insieme, uniti nella loro e nelle loro differenze.